Il cimitero di Pieve Grumone torna alla normalità. Dopo le segnalazioni circa l'incuria della struttura, l'amministrazione di Corte De Frati si è prontamente attivata. Nelle prime ore della mattina di giovedì gli operai avevano già tagliato l'erba e ripulito le lapidi storiche presenti. Una storia quindi a lieto fine, anche se Grumone non è un caso isolato nel territorio cremonese. Situazione similare si riscontra, per esempio, anche a Camposanto di Gadesco, Pieve del Mona. Qui non c'è energia elettrica a seguito di un fulmine che ha colpito la centralina alcuni anni fa. Un problema quindi che va avanti da diverso tempo. Oggi infatti il cimitero si presenta con cavi scoperti a vista e lampade votive per chiare ragioni spente. A complicare ulteriormente il tutto un danno al muro di cinta vicino all'ingresso. A chiedere un intervento rapido all'amministrazione comunale alcuni residenti. Sono due anni che la centralina lì è rotta, che manca l'elettricità. Speriamo che lo facciano in tempi brevi.